Trova una posizione che sia veramente comoda, in modo che tu possa restare a lungo, possibilmente senza muoverti. Manterremo questa postura per un tempo piuttosto lungo, prendi il tempo per prepararti. Ora, porta la tua attenzione alla parte posteriore del corpo, la tua consapevolezza alla testa. Grazie per la visione!